La giornata mondiale del malato è una ricorrenza della chiesa cattolica romana. Fu istituita il 13 maggio del 1992 da Papa Giovanni Paolo II. A partire dal 93 la memoria liturgica della Madonna di Lourdes ha assunto anche il carattere di momento speciale di preghiera e di condivisione di offerta della sofferenza. A Papa Giovanni era stata diagnosticata all'epoca la malattia del Parkinson. Già nel 1991 la sua condizione di malato è stata divulgata solo più tardi ed è significativo che abbia deciso di creare una giornata mondiale un solo anno dopo la diagnosi. Il Papa aveva scritto molto sul tema della sofferenza e credeva che era molto più di un processo di salvifica e renditrice per mezzo di Cristo che ha indicato nella sua lettera apostolica. È da qui che la commemorazione della giornata mondiale del malato viene celebrata ogni anno nel quale si dedica una benedizione. A Fano il Vescovo Trasarti della Diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola si è recato in mattinata al Santa Croce per la consuetà visita ai reparti del nosocomio fanese. Oggi in particolare questa giornata ci riporta non solo agli ospedali, alle case di cura, ai ricoveri, ma anche a quell'attenzione globale alla debolezza che è dentro le famiglie, la fragilità, la malattia lunga. Quindi un'attenzione particolare a questo, ma non solo per il malato, ma soprattutto per il sano che si prende cura del malato. Il malato ci educa anche, ci aiuta a capire la fragilità, ci aiuta a essere più umili, ci aiuta a essere più veritieri, perché tutti stiamo bene, ma possiamo anche star male. Quindi ci aiuta questa giornata a vedere nell'insieme la vita, a goderne nella salute finché c'è, ma anche essere umili nel saperla conservare e essere attenti a quelli che non ce l'hanno più. In occasione della giornata è intervenuto anche il responsabile della direzione medica, sottolineando l'importanza costituzionale della giornata e della presenza e vicinanza del vescovo ai malati. La giornata del malato è un momento per fare una riflessione sulla malattia. Questo è il luogo per definizione dove tante problematiche vengono esasperate perché accanto all'aspetto della malattia c'è un aspetto umano e spesse volte gli operatori si concentrano più sulla malattia che sulla persona. La presenza del vescovo è un momento molto importante affinché proprio, ripeto, la persona che è in una fase molto delicata come quella della malattia ritrovi le motivazioni. Il fitoprogramma dedicato per le giornate seguito dal vescovo ha riguardato diversi appuntamenti tra cui la Santa Messa celebrata lunedì scorso nella parrocchia di San Pio X, le visite effettuate ai reparti dell'ospedale di Pergola per poi proseguire con le prossime tappe che riguarderanno venerdì 15 con la visita alla Casa di Riposo di Caglie, Santa Messa prevista alle ore 16, poi martedì 19 febbraio visita ai reparti dell'ospedale di Fossombrone e Santa Messa presieduta alle ore 16 e 15.